Ciao a tutti, bentornati su Lista SMR Anche oggi, come tutti, giorni nuovi video Oggi continuo a leggere le fantasma dell'opera Siamo arrivati al capitolo 17, pagina 160 Se non siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo Se volete vedere altri video in cui parlo in notable, in intelligible Se vi piace anche il tracing che faccio spesso sulle riviste Inoltre potete anche lasciare un like e un commento se vi vado di supportarmi Ci sono poi ulteriori modalità in descrizione per supportare il canale Come il link per le donazioni PayPal oppure il link per l'Amazon Wishlist Allora, io direi di iniziare e passerò direttamente all'inaudible Le relazioni stupificanti della signora Shiri sulle sue relazioni con le fantasma dell'opera Prima di secoli commissari di polizia con i direttori Il lettore mi permetterà di intrattenerlo su certi eventi straordinari Perché se erano ascolti in quell'ufficio, il segretario dei miei e l'amministratore Merci Ho avuto un tanto demore di penetrare e dover escire a demonstrarmi Si erano richiusi così ermeticamente con un proposito che il lettore ignora ancora Ma che il mio dovere è storico, o sarebbe dire mio dovere di storico Ma nasconde lì più in lungo Ho avuto occasione di dire quanto l'umore del tuo lettore si fosse spiacevolmente modificato da qualche tempo Ho fatto intendere come quella trasformazione L'ho potente non aver avuto come unica causa la casa del lampadario Nelle circostanze ormai note Informiamo dunque il lettore, malgrado tutto il desiderio del signor direttore Che un simile evento resti per sempre l'opera Che il fantasma era ricettotto a tenere i suoi 20.000 fracchi Ah, c'erano stati pianti, c'erano diglignati i denti Tuttavia la cosa l'ha filata lì In un modo anche più semplice non avrebbe potuto essere Un mattino direttore A un altro modo una busta già tutta preparata sull'ora tavolo La busta legava come intestazione al signor F del O, riservata personale Ed era accompagnata al bigliettino del fantasma stesso E c'entra il momento di eseguire le clausole del regolamento Infilate 20 ma con 9.000 fracchi Questa busta va per la sigillata con il vostro sigillo personale E consegnatela alla signora Giri Che farà il resto Direttore non se lo fecerò dire due volte Senza perdere tempo e chiedere se ancora come potessero Penetrare uno studio in queste lettere Che loro stessi sicurano di chiudere la chiave Trovarono l'occasione buona per mettere le mani su un misterioso ricattatore E dopo aver raccontato tutto sotto il giuramento Di mantenere il massimo segreto Gabriele Mercier Misero i 20.000 fracchi nella busta E vederlo quest'ultima senza chiedere spiegazioni Alla signora Giri R'integrata alle sue funzioni La maschera non si mostrò affatto sorpresa Non c'è bisogno che vi dica se fu messa sotto sorveglianza Dal resto le si rego immediatamente nel palco del fantasma E depose la preziosa busta sul pacciamano I due direttori come pure Gabriele Mercier Erano nascosti in modo tale Da non perdere di vista per un solo secondo La busta nel corso dell'intera rappresentazione E anche dopo Ciò che non essendo si mostrano la busta Non si mostrano nemmeno quelli che la tenevano su d'occhio E che l'intero teatro si votò La signora Giri Senato Ma i direttori di Gabriele Mercier E rimasero sempre là Alla fine sausti Eppure la busta dopo aver constatato Che i sigili non erano stati rotti A prima vista Richard de Montchermain Non ci dicano che i biglietti fossero sempre là Ma un piuttente sa mi si accorso Che erano i biglietti stessi Le venti banconote che vere erano sparite E erano state sostituite Da venti biglietti di un'impudente falsità Cosa che ha testato prima rabbia Poi spavento Meglio di odinì Esclamò Gabriele Sì, replicò Richard Ed è anche più costoso Montchermain voleva che si mandasse a chiamare il commissario Richard si oppose Probabilmente avalzo piano disse Non rendiamoci ridicoli Tutto Parigi riderebbe il fantasma dell'opera Vinto la prima partita Ma non ci riprenderemo dalla rivincita Evidentemente alludeva la successiva mentalità Immensilità Giornostante erano stati così perfettamente ingannati Che nelle settimane seguenti Non poterlo nascondere un certo battimento E in parola mia Era davvero comprensibile Se il commissario non fu chiamato fin da allora Non bisogna dimenticare che i direttori Tenevano tutto segreto al loro intimo Perché non credo più che quell'avventura così bizzarra Non fosse altro che una disaburla Mondata probabilmente dall'orbre di gestori E di cui conveneva non divulgare nulla Prima di conoscere il vero noccello Questo dubbio d'altra parte In certi momenti Si mescolava in Moschermain Un sospetto che gli esorgeva Riguardo allo stesso Richard Quale talvolta trovate burleschi Motivo per cui pronti a qualunque avvenienza Attesordimenti sorvegliando E facendo sorvegliare Mamma Girì La colla per volontà espressa di Richard Restò alloscuro di tutto Se il suo complice Diceva le banconotte Hanno preso il volo da un bel pezzo Ma per me è soltanto una persona Non molto intelligente Ci sono molte persone non intelligenti In questa vicenda L'ha replicato il pensiero su Monchermain Come potevamo immaginare Per io Richard Ma non avete paura La prossima volta prenderemo tutte le prega Non abbiate paura La prossima volta prenderemo tutte le pregazioni La prossima volta è arrivata Oggi dopo il piccolo cielo Della scomparsa di Christine Con lo stesso mattino Una mistica del fantasma Ha ramentato l'oro sulla scadenza Infatti come l'ultima volta Istruiva cortesemente Il fantasma dell'opera È andata benissimo Consente la busta Nella quale avete cura Di impilare 20.000 franchi L'ottima signora Girì Abbiate la compagnia Della solda busta Bisognava soltanto riempirla L'operazione deve essere compita con la sera stessa Mezz'ora prima dello spettacolo E così All'incirca mezz'ora che Prima che il sipari si alzi Sulla fin troppo a fosse La presentazione del V Benedirmo insieme nell'altro direttoriale Riesce al mostrare la busta Mon cherbet Quindi conto davanti Le 20.000 franchi E li fila nella busta Ma senza chiuderla E ora dice Vai chiamare mamma Girì Adorno a chiamare la vecchia Ed era facendo un bel kill La signora sembra La sua festa di tappetta nero La cui ditta tendeva A ruggine all'illa Il suo cappello Dele bimbi color folicine Sembrava tipo un umore Disse subito Buonasera signore Ancora per la busta Sì signora Girì Ti servisci al con grande amabilità E per la busta E anche per un'altra cosa A vostra disposizione Signor direttore A vostra disposizione E qual è quest'altra cosa Se mi è consentito Prima signora Girì Avrò una piccola domanda da farvi Fate buona signora direttore Mamma Girì Ecco per rispondervi Siete sempre buoni rapporti Con il fantasma Non potrebbero essere migliori Signor direttore Non potrebbero essere migliori Ah Ne siamo davvero felici Ne siamo davvero felici Ma dite signora Girì Ah Ma ne siamo davvero felici Ma dite signora Girì Per non ciò riuscire Assumendo il tono Di un'importante confidenza Di tutti e tre Noi possiamo dirvelo Voi non siete certi una shock Ma Signor direttore Scramo la maschera Restando l'amabile don dolio Delle tue bimene Sul suo cappello Di color folicce Vi prego di credere Che già non è mai stato Motivo di tue bimbi Per nessuno Ne conveniamo Mamma Girì E ora ci intenderemo La sorte del fantasma La frottola Non è vero Ebbene Che resti sempre tra noi È durata abbastanza E la signora Girì Ricordate due direttori Come se l'avessero parlato Cinesi Si avvicinano L'escritto di trisciarte Oltre il mondo seccata Disse Che cosa volete dire Non vi capisco Ah Ma voi ci capite benissimo In ogni caso Bisogna che ci capiate E per cominciare Ci direte come si chiama Chi La persona di cui siete complici Mamma Girì Sono complice del fantasma Io Complice di chi Fate tutto ciò che vuole lui Oh Non è certo un gran fastidio Sapete Evita sempre delle mance Non me la metto Quanto vi dà per portargli questa busta Dieci franchi Caspita Non è molto Perché Ve lo dirò tra poco Mamma Girì Ora vorremmo sapere Per quale ragione straordinaria Vi siete dedicata Anima e corpo A questo fantasma Piuttosto che un altro Non si può ottenere L'amicizia e la devozione Di Mamma Girì Soltanto per cento soldi Per dieci franchi Questo è vero E invece Posso dirvi la ragione Signore direttore Di sicuro In questo Non ce l'ho la di disonorevole Al contrario Non ne dubitiamo Mamma Girì Ebbene eccovela Il fantasma Non gradisce Che racconti le sue storie Ah So che ignori Shard Ma questo riguarda Soltanto me Replicola vecchia Dunque Ero nel palco numero 5 Una sera C'è trova una lettera per me Una specie di appunto Scritto con inchiostro rosso In questo punto Signore direttore Non ho bisogno di leggervelo Lo so a memoria E non lo dimenticherò mai Dovessi campare cent'anni E Mamma Girì Tutta impettita Legge dalla lettera Con un'elequenza commovente Signora 1825 La signora Emane di Rigorifè È divenuta marchesa di Cossì 1832 Paritalione Ballerina Viene fatta contessa Gilbert de Vosini 1846 La sua alta ballerina Sposa un fratello D'Armé di Spagna 1847 L'olamontes Ballerina Spesa Sposa un morgana Anticamente Il re Lodovico di Baviera Ed è fatta contessa di Lansfeld 1848 La signora Maria Ballerina Diviene baronessa D'Arméville 1870 Therese Sler Ballerina Therese Esler Ballerina Sposa Don Bernardo Fratello del rete del Portogallo Richard Emane L'ascoltano la vecchia Che mano mano che procede Nella corrisa Una operazione Di colori di conubbi Si anima Si compie Si fa utace Finalmente ispirata Come una siffilla Sul suo tripote Scagliano Con una voce Con un'esplosione Gli orgogli L'ultima presa La profetica lettera 1885 Meg Chiri Imperatrice Sare amata Con lo sforzo Supremo La maschera Ricade sulla sedia Dicendo Signori Tutto questo Era firmato Il fantasma Dell'opera A voce Sentito parlare Del fantasma Ma ci credevo Ma ci credevo Soltanto a metà Dal giorno in cui Mi annunciavano Che la mia piccola Meg Cara della mia carne Frotto dal mio ventre Sarebbe diventata Imperatrice Mi sono affidata Di lui ciecamente A dire il vero A dire il vero Non c'era bisogno Di considerare Longamente La visione mia Insaltata Di mamma Chiri Per comprendere Che cosa C'era potuto Ottenere Da quella La mia intelligenza Con le tue parole Fantasma E imperatrice Ma chi receve I figli Di quello Stravagante Manichino Chi Non l'avete mai visto Vi parla E voi crede Tutto ciò Che vi dice Domando Manchermen Sì Per cominciare Devo lui Se la mia piccola Meg Passa da Corifè A voi Detto al fantasma Se deve essere Imperatrice Il 1885 Non dovete Perdere tempo Bisogna che sia Corifè Subito Mi ha risposto Sarà fatto Ho dovuto Soltanto dire due parole Al signor Boligni Ed era fatta Allora il signor Boligni L'ha visto Non più di me Però l'ha sentito Il fantasma Gli ha detto Qualcosa all'orecchio Sapete La sera in cui Iscito così Pallito Dal palco Numero 5 Manchermen Sospira Che storia C'è me Risponde Mamma Jerry Ho sempre pensato Che ci fosse Qualche segreto Della fantasma Il signor Boligni Duce che il fantasma Chiedeva il signor Boligni Il signor Boligni Lo concedeva Il signor Boligni Non poteva Rifidare niente Al fantasma Hai capito Richard Boligni Non poteva Rifidare niente Al fantasma Sì sì Ho capito Dicero Richard Il signor Boligni È un amico del fantasma Dato che la signora Jerry È un'amica del signor Boligni E dato che la signora Jerry È un'amica del signor Boligni Tutto quadro Aggiunse con un tono Quanto mai aspe Ma non è Il signor Boligni Che mi preoccupa La sola persona Da cui sono Stamore Non nasconde La signora Jerry Signora Jerry Sapete che cosa c'è In questa posta Mio Dio No Rispose Ebbene Guardate Mamma Jerry Insinola La posta Uno scorto fosco Ma che non tarda A ritrovare Tutto il suo splendore Delle panconote da mille franchi Isclama Sì signora Jerry Delle panconote da mille Vi volevo sapere fatte benissimo Io direttore Signor direttore Io vi giuro che Non giurate signora Jerry E ora vi dirò L'altra cosa Per cui vi ho fatto avvenire Signora Jerry Sto per farvi arrestare Le tue pimentiere Dal cappello Quello folicine Che di solito mimavano La forma di due punti interrogativi Assonsero bruscamente Quella di punti esclamativi Quando il cappello Ce l'ho minaccioso Sulla crocchia Ormai in tumulto Ormai in tumulto La sorpresa L'indignazione La protesta Lo spavento Si tradussero Con una volta Alla madre della piccola Meg Una sorta di stravagante piruita Conscivolata Dalla virtù offesa Che in un sorpalzo La portò sotto il naso Il signor direttore Il quale non poteva Almeno di interaggiare Con la poltrona Allora Io direi di fermarci qui Lasciamo un ottimo Non sospeso Cosa succederà Alla signora Jerry Se veramente Verrà arrestata Oppure Il fantasma Interverrà In qualche modo E nulla Io vi invito Nuovamente ad iscrivervi al canale Se non l'avete già fatto Mi farebbe molto Molto piacere Potreste supportarmi Anche con Una singola iscrizione Appunto La vostra La tua E lasciare anche un like Se vi va di Appunto Supportarmi naturalmente Così come un commento E le due modalità Che ho lasciato in descrizione Donazioni Paypal E Amazon Wishlist Noi Come tutti i giorni Ci sentiamo domani Ciao